E' cominciato ieri 6 aprile davanti al giudice monocratico presso il tribunale di Ragusa il processo a carico della madre naturale del neonato, del quale venne innescato l'abbandono e il ritrovamento il 4 novembre del 2020 in via Saraga a Ragusa davanti a un esercizio commerciale. La madre naturale del piccolo adesso rischierebbe tanto quanto il padre già condannato a due anni per abbandono di minore. La donna invece che ha sempre sostenuto di non aver mai voluto abbandonare quel piccolo era stata rinviata a giudizio con imputazione coatta e il giudice ne aveva sottolineato il comportamento negligente. Lei si disse già madre, non poteva non conoscere i rischi nel non chiamare i soccorsi. Il bambino intanto ha compiuto già due anni e vive con una famiglia non ragusana. Nato da poche ore il piccolo venne chiamato Vittorio Fortunato, era stato trasferito in emergenza all'ospedale Giovanni Paolo II in condizioni critiche ma si era ripreso sorprendentemente subito e poi affidato in preadozione a una famiglia fuori dal territorio provinciale. Ad innescare l'abbandono e il successivo ritrovamento fu il titolare dello stesso esercizio commerciale che poi si rivelò essere il papà naturale del bambino. L'uomo era stato già condannato in primo grado in abbreviato a due anni di reclusione per abbandono di minore. La stessa accusa è contestata adesso alla donna in concorso con l'ex compagno. Ora la prossima udienza del processo è prevista per giugno. In quella occasione sarà conferito l'incarico per le trascrizioni di due intercettazioni raccolte in fase di indagine e che riguardano colloqui tra la donna e l'ex compagna e padre naturale del bambino richieste da parte civile. La seconda è in programma a settembre quando verranno sentiti i primi otto test della pubblica accusa. La vicenda infatti si compone di un altro aspetto importante la corte di casazione alla quale si era rivolto il legale della madre chiedendo la revoca della dotabilità del figlio ha di fatto sancito l'errore del tribunale dei minorenni che non avrebbe verificato come di dovere il fatto che quel bambino e i genitori naturali li avesse privando loro anche della possibilità di ravvedimento. Ha stabilito quindi che la madre naturale si è messa in condizione di incontrare suo figlio attraverso incontri protetti che non sono ancora stati calendarizzati.